E sul palco di Piazza Colombo a Sanremo ci sono in questo momento Paola e Chiara che stanno cantando e anche ballando con una coreografia insieme a dei ballerini. Furore, il loro singolo che ultimamente le ha riportate alla ribalta. E' terminata la loro esibizione, siamo qui a Radio Puginioner con la nostra radiocronaca in diretta dei momenti clou di questa terza serata del Festival di Sanremo. Mentre Paola e Chiara presentano i propri ballerini, il DJ che le ha accompagnate in questa performance, ricordiamo che fa i complimenti a Madeus per il prima festival di cui sono conduttrici. Ed ora dovrebbe essere il momento, secondo la scaletta ufficiale, in cui sta per arrivare la grande Sabrina Ferilli. Ed eccola qua, lei torna, dice a Madeus, è stata con il suo fascino, con la sua ironia, la sua intelligenza, ha lasciato due anni fa il segno qui al Festival di Sanremo. E sono felice di vederla ancora una volta scendere le scale dell'Ariston, Sabrina Ferilli. Così la presenta e scende dalle scale, in questo momento Sabrina Ferilli, dalle scale del palco, del teatro. Ariston dicendo, è sempre più difficile la scalinata, mamma mia. Finalmente, buonasera. Come t'ho lasciato, t'ho ritrovato praticamente. Buonasera e saluta il pubblico. Teniamo duro, sì. Sono serate pesanti queste. Fai fare gli straordinari a tutti. Ah, qui è cambiato tutto, vedi? È ancora più suggestivo, dice. Bellissimo. Ti vedo splendida come sempre, gli dice a Madeus. È vero? Io non mi fido tanto di chi ha il nasetto lungo, gli dice la Ferilli, sempre con la sua ironia. Sei bellissima, grida il pubblico dell'Ariston. Sono contenta di essere qui, è chiaro che rispetto a due anni fa ero più agitato, perché lavoravo, ho fatto la co-conduttrice, adesso è così. È una visita dei parenti che faccio, dice. Come quelle che si fanno la domenica, che un'arriva, mancano le pastarelle, ma diciamo che il clima è quello. Però sei arrivata con un regalo, non solo per me, lo ricordo a chi sta seguendo. Naturalmente potremmo seguire sulla rete Ammiraglia una nuovissima serie che vede la Ferilli, il 19 che è lunedì, in un nuovo film, in Rai, con un personaggio, dice la Ferilli, un po' particolare, perché non è uno di quei personaggi che io ho sempre interpretato. Io ho sempre fatto un po' delle eroine. Questo invece è un personaggio un po' trasgressivo, un po' scorretto, perché fa molto molto più di quello che farei io, ecco, onestamente. Con un grande cast, uno per tutti, Massimo Ghini, insomma. Che storia è, dice Amadeus, se ci puoi anticipare qualcosa? Allora, ti spiego, dice la Ferilli. I registi, quando vengono, trovano sempre delle belle parole per convincere un'attrice, un attore, per fare un film. Quindi raccontano la parte in un certo modo. Allora è venuto da me Fausto, il regista, e dice, Sabrina, guarda, io ho scritto una storia per te, proprio bella. Cioè, io scrivevo e dicevo, solo Sabrina la può fare. Ah, ma è cazzo, mi fa piacere. Sì, sì, è una storia di una donna di una certa età. Eh, dico. Dice che a un certo momento è un'attrice che poi va un pochino in disgrazia. Allora siamo in due. Allora, c'è una donna di una certa età e poi ci starò io. No, sei sempre te. Te sei la donna di una certa età. Va bene, allora, sì che intende... Eh. Una attrice di una certa età, pure lei, che ha una vita abbastanza difficile. Certo, è un po' così, ma c'è un marito... Ah, un donnaiolo che ne ha fatte tante dalla mattina alla sera. Ma una figlia? No, non ce va proprio d'accordo. Fausto, ma tu mi hai sempre amato e io non l'ho mai saputo, mi vuoi proprio bene. E allora, ho accettato perché mi piacciono le sfide. Ecco come siamo ritornati a fare gloria su Re 1. Gloria su Re 1, ricordiamolo, dice Amadeus, da lunedì 19 per 3 lunedì di seguito. Perfetto, allora naturalmente il graditissimo e meraviglioso ritorno di Sabrina Ferilli su Re 1. E dice grazie, la Ferilli, io sono contenta che ci hai tenuto a battesimo. Ecco, siccome mio figlio è lì, dice la Ferilli, mazza, un giovanotto sei diventato perché io due anni fa, il pubblico se lo ricorda, ho fatto Sanremo per lui, per Federico. Infatti è cresciuto moltissimo, si vede, è diventato probabilmente altissimo anche a seduto. Infatti lui è cresciuto, diciamo adesso, però tu non ti sei dimenticata come presentavi due anni fa quando era co-conduttrice, ma no, anzi, certo, mi fa piacere, ricambio l'ospitalità con una presentazione. Vai, vai, vai. E così abbiamo la Ferilli che presenta adesso in diretta il... Ah, devi presentare il presentatore, diciamo adesso, perché stasera lo sappiamo che c'è un cantante che non si esibisce stasera, che presenta un cantante che si esibisce. Quindi, dice Sabrina Ferilli, il settimo presentatore di questa sera è Darjen D'Amico e questa sera, accompagnato con il suo ingresso dal suo singolo Onda Alta, eccolo, con un altro look molto particolare, un abbinamento giacca, cravatta, camicia, pantaloni, tutto bianco, con la... scritto parole, 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 scritto ovunque, nero su bianco. Molto interessante questo look. Allora, ora la Sabilli, la... scusate, la Ferilli, dice, spiega la prossima canzone, cioè è una ballata che parla della consapevolezza che si raggiunge quando di strada se ne è fatta già parecchia. Il viaggio attraverso l'esistenza è un percorso ad ostacoli tra difficoltà e salite, ma noi, nella rinascita, possiamo ritrovare forza e speranza. Il settimo cantante in gara, presentata, ora chiamata sul palco da Darjen D'Amico, è Alessandra Amoroso, che scende con un vestitino, cioè un vestito, non un vestitino, un vestito, ma molto sexy. Complimenti ad Alessandra Amoroso per il suo nuovo look. Il titolo della canzone è Fino a qui, testo di Alessandra Amoroso e Torre Abate, Alessandro Francesco Merli, musica di Jacopo e Torre Abate, Abate, Pasini, Clemente e Alessandro Francesco Merli, dirige l'orchestra il maestro Mancarella e canta Alessandra Amoroso. E così si conclude l'ospitata anche della Ferilli con l'esibizione di Alessandra Amoroso. Noi ci ascoltiamo tra poco, sempre qui in diretta per la nostra radiocronaca su Radio Pugginio NER. Vi invito ad iscrivervi per non perdere tutte le altre puntate qui al mio canale YouTube Marco Puggini. Vi invito ad ascoltare il mio nuovo singolo, Il Politico, in uscita a mezzanotte. Sì, proprio oggi, proprio venerdì dalla mezzanotte, potrete ascoltare anche il mio nuovo singolo, ma noi ci ascoltiamo nel frattempo, tra pochi minuti, per i prossimi ospiti, i momenti clou di questa terza serata del Festival di Sanremo 2024. Non mancate, a più tardi.